Una vita anticipazioni. Angel insulta a Zuzena davanti a Hortensia e Rosina. Nelle prossime puntate, vedremo come il carattere prepotente del nuovo corteggiatore della figlia di Hortensia sconvolgerà la famiglia Rubio. Abbiamo già notato la sofferenza di Assuzena, in compagnia di Angel. Nel corso delle prossime puntate, la giovane ballerina deciderà di porre fine alla loro recente relazione. Non voglio stare con te, non ti amo, sei libero di trovare l'amore altrove, dice Assuzena. La ragazza non vuole più vederlo, lo caccia di casa. Tuttavia, il ragazzo è convinto che Guillermo sia il motivo della fine della loro relazione. Per tale ragione, paga Claudia per baciare Guillermo, a Zuzena vede quel bacio. Tutto ciò permetterà al ragazzo di farsi nuovamente avanti con la nipote di Rosina. Angel non ha intenzione di arrendersi, il giorno seguente si presenta a casa Rubio, con in mano un regalo, fregandosi completamente di quello che la ragazza ha espresso il giorno prima, come se questo non fosse già abbastanza. La prende con la forza e cerca di baciarla. Calcilda capisce l'imbarazzo dell'amica e interrompe il momento di intimità che il prepotente ha cercato di creare. Angel si arrabbia molto con la domestica e le dice di tornare al suo posto in cucina a fare il suo dovere. A Zuzena perde la pazienza con lui, rifiuta nuovamente il suo corteggiamento, poiché non intende frequentare una persona con una tale maleducazione. Inoltre, le dice che deve chiedere scusa a Calcilda prima di andarsene. A quel punto, Angel si scaglia contro la ragazza, insultandola davanti a sua madre e sua zia che rientrano in casa in quel preciso momento e assistono la scena. La chiama stupida maleducata, inoltre le dice che sa che corre dietro a un cameriere pezzente senza alcun futuro, riferendosi a Guilermo. Ovviamente Rosina e Hortensia prenderanno le difese di A Zuzena, le sorelle saranno molto deluse, dall'atteggiamento del corteggiatore che avevano accuratamente scelto per A Zuzena. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.